E benvenuti a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qua, chi come lo sente che vi parla? Oggi ragazzi siamo qua in questo nuovo video Allora ragazzi, prima di tutto Volevo purtroppo annunciarvi che questo sarà il penultimo video del canale Allora ragazzi, come ben saprete, ormai sì, ho quasi 190 iscritti Quindi siamo anche vicini ai 200, va bene Però ragazzi, come sapete, come avete visto Nell'ultimo anno non ho caricato praticamente video Cioè in un anno penso che avrò fatto 5, 4, 5 video, nemmeno Ok, perché due escono adesso Perché questo è il penultimo? Ve lo voglio annunciare ora perché è il nome di tutto Oggi è giovedì 5 luglio E io esattamente lunedì 9 parto per le vacanze Allora ragazzi, questo canale purtroppo lo sapete Ma è vero, quello di 190 iscritti per un tantissimo, un grandissimo periodo Senza caricare i video Ragazzi, purtroppo ormai questo canale è morto quasi Perché sicuramente avrò quelle 15 persone che mi seguono Se qualico video, nemmeno Quindi ragazzi ormai praticamente questo canale è andato E dico per l'ultimo video Perché sì, non sarà l'ultimo Mensì l'ultimo sarà un video che registrerò esattamente appena finito questo Che non è un video Ma è una parodia La parodia su italiana, DJ Axe e Fedez Ricordante Re Music Siege Quindi alert, spoiler alert, alert support Vabbè, ci siamo capiti Quindi ragazzi sapete che a breve uscirà la parodia E uscirà entro questi 4 giorni Perché da questo lo caricano senza editing in questi video Entro 4 giorni devo registrare questa parodia Di questo tutto il testo E devo riuscire a editarla Perché ovviamente non mettere solo lo schermo nero Come l'altra volta Con lo secondo Kikomian7 Ma la clip Non la clip di Rainbow Poi vedrete tutto Mi raccomando ragazzi Ascoltatela tutto Sì, sarò stonato Però apprezzate l'impegno ragazzi Perché comunque io non so cantare per niente E niente ragazzi Allora, la notizia principale era questa Che in questo canale ho deciso di chiuderlo ormai Perché è andato Una buona notizia c'è Cioè che a breve ne riaprirò un altro Quindi molto normalmente appena rientrerò delle vacanze E perché aveva visto le storie su Instagram? Aveva visto appunto quello che avevo scritto Cioè che avrei fatto un punto, un video importante Una notizia importante riguardante YouTube E una Instagram Collegati fra di loro Che appunto era questa Che chiudeva il canale Però ne volevo creare un altro Automaticamente quindi anche cambiare il nome di Instagram E quindi Un nuovo canale con un altro nome Non Ticomian7 E per quello avevo scritto Che mi servite il vostro aiuto Perché Visto che io non ho tanta fantasia Un po' proprio così Non ho tanta fantasia Non sono molto fantasioso Vorrei chiedervi dei consigli sui nomi Sia qua Sia su Instagram E vorrei chiedere appunto questi consigli Potete consigliare un nome originale Dove però non c'è il nome Ciro ragazzi Perché no Perché mi conosce e lo sa No Cercando di evitare Ciro Tutte cose qua Vedetevi Selezionerò poi i più geniali Quelli migliori Che mi arrivano Li modificherò anche magari Forse Vedo anche in base delle idee Che ho io I miei amici Conoscenze varie Ok E quindi cambierò Come tutto il nome su Instagram E creerò un nuovo canale Con questo nome Quindi mi raccomando Voi che ancora mi seguite Su questo canale Per favore Andatevi subito Ad iscrivere al nuovo Che creerò Penso il 22 luglio Penso Non lo so Poi vi aggiornerò su Instagram Appena creerò un nuovo canale Ve lo dirò E cambierò anche Soprattutto il nome Lì su Instagram Quindi ragazzi Queste saranno Una delle notizie più importanti Volevo anche dirvi Che Per la nuova parodia Ho avuto anche Cioè ho avuto anche Grazie al mio capo Ex capo clan Di Rainbow Roandi Visto che lui ha creato Una pagina di design Che crea miniature Copertine Foto Così edit Lui aveva messo Che faceva Le copertine Gli edit Così a pagamento Però a me l'ha fatto gratis In cambio di pubblicità Quindi mi raccomando Ragazzi Andatela a seguire Troverete Qui sotto Il link Del suo profilo Instagram Sia il suo Sia la sua pagina Del design Quindi degli edit E mi raccomando Ragazzi Andate a seguirmi Anche su Instagram Purtroppo Questo canale Non è andato a finire così Ne creano un altro Spero di andare meglio Il mio obiettivo Allora Prima di tutto Già raggiungere Subito Cioè Subito Riraggiungere 100 iscritti Quello già mi andrebbe Molto molto bene Poi ragazzi Vorrei Non dico tanto Cioè Non è che dico tanto In realtà È tanto Non dico tantissimo Ma Vorrei cercare di arrivare Almeno a 1000 iscritti Vorrei Il mio sogno Più grande Anche in anni In vari anni In 4-5 anni Vorrei arrivare A 1000 iscritti Quindi ragazzi Per favore Supportate Supportatemi Lasciate like Condividete Mi raccomando E niente ragazzi Ci vediamo tra qualche giorno Per questa parodia Che sarà Il testo molto bello Apprezzate l'impegno Ascoltate soprattutto il testo E non io come la canto Perché sapete Che io faccio schifo a cantare Come è successo Appunto per la parodia di Pamplona Quindi ragazzi Noi ci vediamo Per la parodia E poi In un prossimo canale Un bacio a tutti Bella raga Tommi Che Uncした Glorzare